Il 4 novembre scorso la tanto attesa nomina Papa Francesco ha scelto Monsignor Leonardo D'Ascenso come arcivescovo della diocesi di Trani, Barletta, Biceglie e Nazareth. Nato a Valmontone il 31 agosto del 1961, il neovescovo è entrato nel seminario regionale di Anagni ed ha conseguito la licenza in teologia dogmatica e il magistero in scienze della formazione presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. In seguito il dottorato in teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum sempre a Roma ed è stato ordinato presbitero il 5 luglio 1986 da Martino Gomiero, vescovo di Villetri e Segni. Dal 2008 al 2015 è stato vice direttore del Centro Nazionale per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana e dal 2015 è rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni dopo esserne stato direttore spirituale, vice rettore e responsabile della comunità propedeutica. Il 14 gennaio scorso poi l'ordinazione episcopale nel palazzetto dello Sport Spartaco Bandinelli di Velletri, ordinazione ricevuta dalle mani del vescovo Vincenzo Apicella. Il suo ministero episcopale nell'Arcidiocesi di Trani Barletta Biceglie sarà nel segno del motto scelto, messi squida e multa, la messe e molta. Parole tratte dal Vangelo di Luca.